Sì, tanto non faccio l'inter tutte le volte, è uno spezzano il secondo. Comunque benvenuti la seconda puntata. Sì, è uguale identica alla seconda. Alla prima volevo dire. Sì, è sempre lui. E niente, faccio un'altra parte di questo perché è figo. Eh, come fare? Il gatto, dai. Il gatto? Cambiamo, metti blu così non siamo tutti uguali e non mi confondo. Eccolo il blu. E vai. Ma è una tigre, non è un gatto. È una tigre mixata a un... come si dice? Eh no, c'è una... Ha un lupo. Tigre e lupo messi insieme. Dai, un po', c'è subito. Oh, natalizia, con la neve. Dove sono io? Sì, visto che oggi è il 22. Esatto. Che figo, fra poco e Natale. Bello? Che merda. No, no, no! I più potenti non riesco mai a fare. No, sono morta. Qualcuno butti giù quella stranza. Ora, per il resto, dopo quanto devo uscire anche su PlayStation 4. Non so se è gratis o a pagamento. Ah, sì? Sì, sì. Io credo... Non è stato tipo una settimana fa. Ah, io credo che sarà a pagamento, sai? Può essere facile. Ma porca miseria mia... Dammi... no, dammi questa. Gli accopo a tutti con la scimitata. Chi ho ammazzato? Chi ho ammazzato? Sì! Ah no, ho ammazzato te. No, no, no. Ah no, no. Sono quello blu. Ok, però ci sono sempre... Io non ho ucciso nessuno. Ahia. Oh madonna, che è sta qua? Anche questa che non sia abbastanza... Io non voglio vedere. No, salta, salta. Niente. Morta. Lancio della spada. Lancio dei coltelli. Oh ma... Le chiamamenti pro... Muori, muori! Ma dopo che giustiamo un uno contro uno. No, no. Cosa? Gli stiamo un uno contro uno dopo tanto per cambiare. Cos'è, almeno forse riesco a... Quasi vincere. Perché allora... Continuerò a farmi fuori. Mamma mia sta qua in... Tanto stronza. Chi? E sta qua con... Con ste pistoline. Sì, ho capito. No. Io voglio salvarmi. Vediamo se riesco a cacciarlo fuori. E se ci riesci. No! Che merda! Questa! Aiuto! Aiuto! Mi sono incastrata! Ok. Cuffie di me. E l'ha uccisa con l'altro gatto. Io non volevo già fare neanche mezzo uccisione. Ah! Ah, io... Non ho detto, non ho fatta una. Tipo nella serie. Le cucchie. Le parole famose. Granata no. Ok. Dove sto? Oh mio Dio, stavo per cadere malamente. E sto proprio in un triangolo avanti con la spada del gatto. Bellissimo. Guarda questa che merda. La mia... Il mio triangolo è troppo pericoloso. Guarda! Guarda! Doppia. L'ha fatto doppio. Dai, non è possibile. Brutta! Guarda questa qua. Mi... Mi fa più il culo lei che io. Eh, ha fatto dieci punti, eh. Eh! No! Cioè, stavo facendo una pezzicinetta. Dicami. L'ho buttata qua. Hai visto come l'ha buttata fuori? No! Ma sono morta di nuovo. Eh, ma vuoi sempre vincere. Ma no! Però. No! Mi sono confuso con quell'altro. Non sono neanche come ho fatto a sopravvivere. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Ok. Ma no! Buttiamo giù sta... Eh, c'è un trentici per quella là, eh. No! Guarda che strada! Ma quindi, si fa due punti quando uccide e ne prendi uno quando muore, credo. Come in Allstas. Sì! Eh, vai! Diciassette! Tipo, della serie... Non la recupereremo mai. Oh! Dimmi che l'ho buttata fuori, no? Andiamo a cercare di buttare fuori. No. Ma forse... Forse... No, mi stavo per cadere di nuovo. Guardami lì, in fondo. Che caso. Ma che schifo facciamo. Tanto, tanto, mi sa. GG. GG. Ma meglio, quando vedo X, premo X. Sì, volevo dire, quando c'è X, premo X. Sì, sì, ma è così proprio d'abitudine. Tipo, io ancora non mi sono abituato. Eh. Ok, casuale. È molto fuori tu. Infatti, appena c'è... C'è per i personaggi... C'è per i personaggi. Per i giochi della Playstation, c'è... Cioè, per i giochi del computer, c'è i tasti della Playstation, li installo sempre io. Perché mi piace di più. Eh, però... C'è, è orribile quando non... Ci sono i tasti dell'Xbox, perché sono tutti fatti al contrario. Ma io dico, ma non si poteva scegliere una cosa comune. Eh, sì. C'è, è stato comodo. Ma hai vado alcuni giochi del computer moderno, tipo, li conoscono, come giocatori della Playstation o dell'Xbox. Però quelli vecchi ancora... Sì. No! Che cado giù da sola. Ok. Mamma mia, quant'è odioso sto... Sto corno. Dove sei? Cado di nuovo? No! 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 Ok, ok. Con quale... Con quale... Miracle... Ma la sei, una cosa. Non so neanche come ho fatto. Vabbè, mi hai aspettato proprio tantì. E però... Perché la... Ma non di nuovo! Ok. Vediamo un po' se ci riesco. Ma perché? Vedi, sei... Uè, è vero che sto coso è lentissimo, eh? Si vede. Ma perché? Continuo a sbagliare. Cosa ho fin... Dove è finita la mia arma? Cosa sto facendo? Una granata per te. No, no, no. Eh, lei l'ha lanciata male. Che merda. Ma che cazzo? Tipo nella serie... Non è cambiato niente. Dai, perché la mia è così scarsa? Aia. Ok, vediamo un po' se è scarsa di vedere qualcosa. Non so che tassi devo premere, ma io li premo comunque. Tutti i tasti a caso, vai. Perché la mia sta ferma quando attacca. Gli altri si muovono. La mia è immobile. Ok. Ma vedi? Tra l'altro qui clicco i tasti e... Vai, muori fuori fuori. Madonna santa, ma che cazzo? Vola fuori. Cos'è sta roba? Eh sì, secondo te aspetto... Chi è? Non ti azzardare a tornare. Non ti azzardare. Vai fuori. No, ma anche no. No, no, no. No, ti ho mancato per un pelo. No, la mia arma. No. Non mi trovo meglio. Però non è giusto. Dominating. Eh, ciao. Eh, una mira. Ma dove l'ho lanciata? Aia. No, che... Oh! Però non mi ha dato punti. Eh, una volta se mi uccidi mi dai punti da punti. Nica se... Se mi giudici. Ma no. Non è giusto. Vedi, sono... È fortuna la mia negli altri. È solo fortuna. Niente di più. Ok. Proviamoci. Aia! Vediamo se ti sconfigo di nuovo. Eh, sì. Eh, il fatto che stiamo giocando da più di 30 minuti. Quasi un'ora. No, è mezz'ora. Vabbè, ma la prima che ci stiamo provando. Ah! Ma che... Ah, si può raccogliere anche con R1. Ah. No! 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 Ok. No, se morimi tu. Mamma mia. Come si fa già a... No, no. Come si fa già a direzionare il colpo? Eh, con il tasto direzionale. Ma com'è possibile? Che attacco fa sta tigre? Ia. No! Wow! No! Non puoi salire! Non puoi salire! Ma no! Ma no! Non ce l'ha fatta? Oh, per rinrotta la cuffia. C'è rotta la cuffia? Per il rotto della cuffia. Ah, so che sarò tappato tutte. No, no. Tanto a Natale dovrebbe arrivare una nuova. Con un microfono migliore, visto che quello della mia webcam fa... No, co... Madonna, santa. Se stessi attenta. Sto andando in microfono alla webcam? Sì. E fa un po' abbastanza cagare, però vabbè. Ma no! Non si sente neanche tanto che stiamo andando in microfono alla webcam. Ah! Meno male! Ma si muove sta roba! Ma no! Ma guarda che caduto da sola! È stupido! Non mi prende nemmeno le armi! Ma... Vabbè, è proprio un gatto, guarda. Vabbè, tu sei una persona che sarebbe dovuto vivere un milione di anni fa, quindi... Guarda che cade! Ah, sotto c'è la roba. Hai visto questa roba, va? E poi il mostro da... Ah, mi ha buttato fuori. Ho capito come funziona! No! Che merda, ho sbagliato. Il colno. Ma merda. Potevo non farmi prendere e invece mi son fatta... Non ti becco più. Ma no! Vedi, basta che dici sto perdendo, non ti becco più che... Sto perdendo! Io sto perdendo veramente! Eh, non funziona. Eh, ma no! Mi scrivi... Aiuto! Però vuol dire che se vinci sempre tu io contro te, vuol dire che all'an sono solo fortunata. E tu sei un po' sfigato. Oppure semplicemente... Uno contro uno di destra. Da tutti contro tutti. Sì, in effetti. Da tutti contro tutti è un casino. Metti che... Staccato dai botti fino adesso e poi arriva l'altro lì col culo e ti colpisce con un'arma. No! 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 Ma no! Sì. Sì, vuol dire che faccio proprio cagare. Ho freddo le mani. Un uccisione è una morte. Ma che... Ah, con questa sono a livello 1. Ah, beh, pensavo tipo della sua mita voce. No, inizialmente... Ah, no, ma questo qui no. Dipende, se sono in pigiama no, non registro la mia faccia. Il pigiama è un po' brutto. No! Ma come? Ma com'è possibile? No, ho le mani che preferisco solo. Ma non sono nemmeno carine, sono un po'... Sono un po' larghe, diciamo. Non lo so. Che cacchio le sono? Sono mani che preferisco. Non dobbiamo parlare di maie, quindi ti distruggo. No, vedi, vedi. Vedi. Non dovete mai farmi parlare, se no io mi distraggo troppo. Ah, beh, che lancio. La vuoi piantare? Ma guarda, guarda. Non devo parlare troppo che se no di là mia madre viene a rompermi. Spero se andassi proprio sopra. Ma ci sei andata. Vabbè, almeno ho preso... Però... Ma che... No, no, no. Mamma mia. La pala chiodata di CrashPatch. Cioè, sta andando proprio male a te. Ma come più due punti? Ma sono caduto da sola. Ma no. Vuoi un burro fist? Eh? Un burro fist. Ah. Così. Ma... No, minchia. Grazie, in fondo mi hai anche sal... No, ti sei salvato allo stesso. Credo. Ma perché non attacca quando voglio che attacchi? Guarda, un alieno senza armi, sto facendo il culo. Sto facendo un gioco uguale, però presi un fatto da tre, un pupanga. Un po' più due punti per questo. Sì? Sì. L'ho scoperto ieri. E per quello che ho detto, va, mi scarico proprio aria. Ah, ecco perché... C'è un... Ma come? Ma vai. Ma quanto... Ma no! Dai, è una presa per il culo in realtà. Ok, suicidi. E' fatto un'unice. Però io non guadagno niente. Eh, sì, sì. È ovvio. Se lo sarebbe... No, guarda che cazzo stavo facendo. Se si suscita, perde tre punti, proprio. Ti punisce. Ah, ma attacca da solo. Dopo un po'. Non credo, perché? Eh, sì, perché stavo tenendo premuto... Ah, ma non vuoi piantare? Guarda, non ti prendo. Dai! No, 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 no! Eh, è bisogno che fanno così schifo, dai. Eh? Non fanno così schifo le pistole, ora che le imparano a usare. Eh, vai. Guarda. Guarda, non dico niente, non dico niente. Mi arrabbio solo per niente. Perché ci sei andato solo? Perché pensavo si potesse raccogliere. Ma no! Va acceso. Ma guarda, te... E vai. Basta, basta. Sto gioco inizia a farmi cagare. Perché perdi? No, no, perché fa cagare. Sì, esatto, fa cagare per questo stacco, non perché perdo, figuriamoci, io non perdo mai. È per questo che stacco. Se il video vi è piaciuto, che è la continuazione del primo, lasciate like, commentate, condividete e iscrivetevi al suo canale che tanto ha un milione di iscritti in più di me, quindi non gli serve dei miei 23, tra l'altro. Vabbè, no, siamo arrivati a 24. Cioè, è tanto a 24. Oddio, per me. Ah, sì? Ah, non lo sapevo, perché non mi fa vedere gli iscritti. Comunque, io sto continuando qui. E quindi, buono, ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Rayflame Fox, ciao! Eh, Rayflame Fox, ok, l'ho detto giusto. Sì, sì, sì. Va bene così, va bene comunque. Grazie a tutti.